Presentati i dati piemontesi del monitoraggio della Goletta dei laghi di Legambiente. Emersi 5 punti su 9 con livelli di inquinamento oltre i limiti di legge sul Lago Maggiore e 2 su 5 sul Lago D'Orta. Tuttavia, si è notato un miglioramento rispetto all'anno precedente, soprattutto per il Cusio. Nel mirino dei monitoraggi, canali e foci, le principali vie attraverso le quali l'inquinamento microbiologico derivante da cattiva depurazione... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.